carissimi oggi vi voglio presentare un altro tipo di cicciuzzo il nostro cicciuzzo ha cambiato come mai questo nuovo lucco ti hanno consigliato forse qualcuno che ha messo il prodotto c'è l'unica cosa è che ti fai qui e poi vai a un barbino e ti fai più meglio la barba la barba ti prende pure pulita c'è qualche pepino più lungo la cuccia e tutte queste cose è bellissima ma perché non me la voleva fare due giorni ne indietro questa barba non me la riusciva mai poi è tutto a posto sono qua a massaro è importante che a te ti piace si si è un capo in capo della mia personalità comando io non comando nessuno e ogni di noi dobbiamo fare le nostre fatte quando vuoi che mi dici tu un giorno ma voglio fare io le faccio la barba non vuoi voi mi ridetevi le voce io mi viole mai non mi ne vieni a dare e ma come ne viete a dare ognuno fatti nostri ok ok voglio avere un abbraccio a tutti speriamo che anche questa guerra e questo periodo si passano di nuovo per un'altra volta perché è bellissima la vita è bella quella se la sape godere ma se uno ti sto a nove non è facile la tratta giusta o prima o dopo c'è dentro la buca e adesso non si resta attento e tutto a fare voglio fare tutto ciao da ciccio di campoballo di manzana ora saluto i miei figli ciao salvatore ciao mario ciao verica basta che state bene ora fra qualche giorno ci incontriamo con i miei figli e speriamo che vai ci ho cattato tutto il regale non è il regale magari io della presenza già ho parlato con mio cognato mi dice quando tu vuoi c'è l'assistenza sociale dice quando vuoi tu che mi vuole ok ma io quando io me lo posso vire non c'è problema con questo oggi c'è una bella giornata a Cammarsola questo mattina c'è un pochettino di freddo però ora ora fa un pochettino c'è una giornata bella e ogni oggi è andato tutto cosa a posto mi sono uscito di tutte cose ciao voglio bene a tutto il mondo compreso l'america tutto il mondo faccio comunque così brutta vogliamo cose buone nuove cose brutte così brutte la mano parco la scupa non lo vogliamo cose cattive ok ciao voglio bene da Francesco di Campobello oh yeah oh yeah oh 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 oh